registrazione avviata si prego per per l'appello grazie buongiorno qui c'è la consigliera buongiorno qua ancora a me da rec che gira c'è il consigliere gelarda un attimino per rispondere a me la dà a me da già registrazione sono le 12 08 siamo al secondo appello e procedo a chiamarlo mattaliano assente giaconia assente arcoleo assente di pisa assente ferrandelli assente figarra assente corello assente lomonaco presente meli assente sufino assente russo assente tantillo assente gelarda assente verificata la mancanza del numero legale perfetto perfetto vista la mancanza del numero legale la seduta è chiusa allora chiudiamo prima che